Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Saints Row 4! Siamo qui con... Marco88 E... Ma... Basta! Saltalle in giro! Che dolce! Cosa vuoi fare con questa auto qua? O con questa persona qua? Ah! Sei cattivo! E io ti mando dietro un lavoratore! L'olte, si è fatto un bel giretto! Chi mi sta sparando? Ma lascia mi perdere! Va bene, basta! Dai che dobbiamo iniziare a fare la missione principale, altrimenti qua... No, guarda che stanno arrivando i cani qua! Meglio scappare! Come... Ci sono i tics coltivi! Eh, io sto scappando! Tutti i tuoi! Oh, un cluster dart! Ma perché anche i poliziotti, porca d'una miseria? Me la corro! Ma vaffanbrodo, stupidi pezzenti! No, 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 no! Sto morendo, andiamocene Io sono già scappato Anche io sono scappato Facciamo la missione allora, scusa un attimo Sì Avviale Aspetta un attimo Fucile a rimbalzo, sì ma non mi fa dei potenziamenti del fucile a rimbalzo Vabbè Ok, avvio l'incarico allora Mi hanno ucciso, perché? Ma porca di una miseria Perché arrivano dei nemici così a caso? Incarichi il fantasma nella macchina Allora andiamo Ma perché sei un animale? Cerco di raggiungerti Ma sei a un chilometro Dove sei andato? Sono su un palazzo, non mi raggiungerai mai Eh no, infatti La pistola da booster fa cagare Eh, ci mette un soccorso a ricaricare E poi non puoi fermarla, altrimenti ci metti trent'anni a partire Comunque ragazzi abbiamo sbloccato il super sprint infinito E quindi come potete vedere possiamo correre come dei pazzi tutto il tempo Era una missione secondaria in pratica Eh, Marco io sono quasi arrivato al punto là della missione Sì, anche io Missionaria Dov'è che? La missione missionaria Cos'è sta roba? Non so, ah ma è vicino alla chiesetta tra l'altro Tutto casa e chiesa? Sì Ma perché continuano a inseguirmi dei poliziotti e dei Degli zirc Degli zii? Bella zio Bella zio Però restano lì se gli dici bella zio Inizia una scorreggiata Ok, allora Mind over murder Ogni sono punti contiene una varietà di cerchi sospesi Il colore del cerchio determina Denota il tipo di oggetto che bisogna lanciarci Control per ottenere un punto I veicoli vanno nei cerchi blu La gente in quelli verdi Wow Wow Un punto in ogni cerchio non è tempo previsto Buona fortuna Che cacata è Il maiale è morto It's murder time Che cavolata assurda è Oddio Dobbiamo metterci un minuto e mezzo per riuscire a fare tutto Due Uno Ma che cavolo Dov'è? 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 L'ho mandato Passa un'altra area bersaglio Oddio Io sto morendo Io vedo lì Ma anch'io ma perché ci sono i polizioti che ci sparano Porca miseria Eccoci qua Allora Ma vaffan brodo mi investono pure Allora Uno La cosa qua La cosa qua nel Questo La No No anch'io Ok La persona là Dov'è la persona? No qua Passa un oggetto L'ho mandato la persona lì Ah e dov'è il Ah no c'è un altro là Aspetta Ok passa un altro area bersaglio Io l'ho mandato la persona sul mezzo Non me l'ha contato Osmo me l'ha contato Ehm non lo so Eh sono già un altro area bersaglio Si anch'io Allora prendo la testa Allora la testa l'ho fatta Sì ma c'è un altro Ok una macchina Allora la persona l'hai messa? Ma per chi cazzo? No adesso lo faccio Si è incastrata Eccola Ma vaffan brodo Mi è partita la macchina No Voglio la macchina Ok Fatta Un'altra macchina serve Argento Un'altra Un'altra zona? No Ah no Avevo fatto solo argento Porca miseria ragazzi Si è un po' scarsi eh Che va Eh vabbè Due e mezzo Meglio di bro Esperienza Hai visto come balla tizio? Nella simulazione sono disponibili stanze più impegnative della professora Della modelletta Professor Granski's mom Ok La mamma del professore Eh si Si insultano le mamme Che bellissimo Ci sei Marco Secondo me Il professor è un po' schifo A ballare la mia è fighissima Perché è una piratessa Una piratessa Ok ok Accimamente sbloccato I gemelli saints Ok E mo' la missione è completata? Si ce n'è un altro adesso Che cosa c'è? Telecinesi su chiavita Ehm Se incontriamo Sid sulla nave ci date le cinesi su chiavita Andiamo Può essere comodo Si Visto che abbiamo sempre problemi di vita Che dici? Certo Perché ridi? Niente Ti trovo in un bellissimo posto Dai facciamo incontrarsi sulla nave Ti ha lanciato dentro un cassonetto Grazie Sono gentile Andiamo No non è là Ho travolto un agente per sbaglio Comunque è stra epico ragazzi Il fatto che adesso abbiamo lo sprint infinito E cambia davvero tutto Cioè drasticamente il gameplay È proprio rivoluzionato Si non è più una rottura di sicurezza Dai torniamo Però la pistola di upstep è troppo Andrebbe buffata un po' Esatto È una mia impressione Il mio personaggio è diventato meno tettuto Non lo so forse è il suo Ma dove sto andando Forse è l'abbigliamento Che influenza un po' No dove bisogna andare Di là si ma Come ci arrivi di là Ah eccolo Ciao seed Corteggia io voglio provare a corteggiarlo Ma perché Anch'io volevo provare No No Oddio Marco hai provato a corteggiarlo Sì Hai visto che succede Sì Ok Voglio riprovare Oddio ma cosa qua Ma No io voglio parlare con seed Non corteggiarlo Non mi fa parlare Ok io ti ho parlato Non può Perché dice che ha bisogno di raffreddarsi Oddio Quindi dobbiamo tornare là scusa Abbiamo finito sto incarico Boh No Ci dice Trionfa il gioco televisivo preferito di Ziniac Cos'era un secondario? Dobbiamo vincere al MOM Di nuovo Marco dobbiamo partecipare di nuovo al MOM Ok Ok Ma tra l'altro hai visto che la mappa si sta colorando sempre di più di viola Vuol dire che la stiamo sbloccando pian pianino Ma dove dobbiamo andare? Ehm C'è il blu Te lo indica 600 metri da qua circa Insomma dobbiamo corteggiare le loro madri Ehm Ma che no Eh MOM significa Sì ma è con i puntini Eh ma i puntini è perché Per censurarlo eh sì No è Mother of Qualcosa di incomprensibile Mother of tu non Eccomi Sei pronto? Sì Iniziamo attività co-op Spacchiamo la faccia a questi tizi E' simpatico sto gioco poi Se non ci fossero i tizi che ti sparano in faccia Sì